Lasciatevi cullare dal sogno del futsal, proiettate il vostro sguardo su questo rettangolo di passione e sarà amore per sempre. Buonasera da Fabio Morra, bentrovati con il calcio cinque di Serie A. Ottava giornata, la palacecola, si affrontano il Lolo Caffè, Napoli calcio cinque e il Real Rieti Nicolodi, sempre con Cesaroni davanti, lo prova a puntare, prova a farsi alco, il destro, non arriva il pallone a De Luca che adesso lo riesce a riprendere, il pallone favorisce gli azzurri con il tocco di Salas. Adesso però attenzione perché sbaglia tutto con il Real Rieti, la grande parata di Iuri, bello buono. Attenzione ancora Real Rieti pericolosissimo e ancora Iuri, bello buono. Attenzione ancora la parata di Iuri, bello buono. Parte Giapaduarte, il destro, la parata di Leandro, il destro, il tocco corto per Rubio sull'esterno della rete. La deviazione, il gol, il gol di Mancia che sblocca il punteggio e porta in avvantaggio con tanto di palletto e di danza il Lollo Caffè, Napoli calcio cinque. Giapaduarte che fa tutto splendidamente bene, poi Cesaroni, la conclusione sul fondo. Attenzione lo scambio. E Mancia, attenzione, tre contro uno con la palla per Rubio, il tocco sull'uscita di Leandro Garzia Pereira. La palla in avanti, l'anticipo di Duarte, diventa un assist con il miracolo di Bello Buono. Ma che cosa ha preso Iuri? Finisce. Così il primo tempo con la grande parata di Iuri Bello Buono. Uno a zero per il Napoli. E con la formazione ospite che calcia con Nicolodi. La formazione ospite che prova a gestire adesso con Nicolodi la conclusione. Poi Gioasigno. Dentro. ancora Iuri Bello Buono. Ma che cosa hai preso oggi? La palla per Salas. Dentro Salas. La conclusione. Jefferson. Rientra Giapa. Attenzione. Attenzione. In la golla del capitano. Mio capitano. Del capitano. Mio capitano. Cesaroni la ruba. Grande intervento in fase difensiva qui. Splendido il lavoro con la parata ancora di Iuri Bello Buono. Salas. Attenzione. Arriva Cesaroni. La fitta di Salas. Poi Gioppa il destro sul fondo. Attenzione. Raffiglia tutto solo. La scivolata e poi. Calcia alto Nicolodi. E' sempre due a zero Napoli. Ah qui sbaglia De Luca. Attenzione. Opportunità per i rienti ancora. Iuri Bello Buono. Tuli. Nicolodi. Dentro. E il gol arriva di Scimanguigno. Prova a farlo velocemente con Gioppa che non c'è. Il portiere lo trova e trova la traversa linea. Salas. Il destro al volo. Jelocic. Il tocco per Peric. Si gira ancora. Poi Nicolodi. C'è a recuperare questo pallone per gli azzurri. Prova il rialiati ancora. Raffiglia. Attenzione. L'opportunità. La conclusione. Il gol arriva. Il gol arriva. La parte del rialiati con Nicolodi. Finisce così la partita dunque due a due tra Lolo Caffè e Napoli e il azzurri. 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 Azzurri.